Riccardo Signoretti sul Magazine Nuovo svela i compensi d'avere star di alcuni concorrenti della cassa del GF VIP 3. Maurizio Battista, prima di ritirarsi dal gioco, aveva rivelato gli accordi economici dietro la sua presenza su Canale 5. Ecco quanto intascherebbero gli altri inquilini e soprattutto quanto è stata pagata Lori del Santo per entrare nella cassa più spiata d'Italia.Eleonora Giorgi mio figlio Paolo Adamitri guadagna pochissimo. Ma lui replica mia madre alle traveggole Nadia Toffa, la battaglia contro il cancro continua sono gonfia, non vedo il bicchiere mezzo pieno cifra record per Lori del Santo che ha diviso l'opinione pubblica accettando l'offerta del GF per partecipare al reality nonostante la recente scomparsa del figlio Loren. Cifre da capogiro anche per l'ultimo arrivato Cristiano Malgioglio. Foto chiocciola e demolleggi anche, il casce di Hilary Blasi al GF VIP ecco quanto intasca la moglie di Totti per ogni puntata che presenta. Cifre da capogiro anche per l'ultimo arrivato Cristiano Malgioglio.